Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con Lombardia Notizie Online. Oggi pomeriggio non è con noi l'assessore Giulio Gallera perché è impegnato in una serie di riunioni molto importanti e quindi abbiamo come ospite il vicepresidente Fabrizio Sala che ci informerà anche sui dati e sulle notizie di carattere sanitario relative alla giornata di oggi. Buon pomeriggio assessore. Buon pomeriggio a tutti. Intanto possiamo parlare della mobilità Pier. Allora noi abbiamo come sapete noi lo ripeto perché bisogna essere molto chiari. Abbiamo preso come campione un giorno al di fuori dell'emergenza del coronavirus. Abbiamo calcolato quanti spostamenti ci sono stati in Lombardia basandoci sulle celle telefoniche. Abbiamo fatto 100 gli spostamenti in un giorno normale il 20 di febbraio per essere chiari e poi facciamo un rapporto con questi giorni. Avevamo dei buoni dati la domenica. La domenica eravamo a un 24 per cento quindi eravamo bassi e poi abbiamo ripreso la settimana con lunedì e martedì in cui era un 36 per cento scarso. Ieri purtroppo abbiamo avuto un dato non molto positivo perché è un 37 per cento ma è un po' più del 37 per cento quindi è arrotondato per difetto. E questo 37 per cento cosa significa? Più dell'1 per cento di mobilità vuol dire parecchie migliaia di persone. Allora qui dobbiamo rivolgere ancora un appello. Fermo restando le attività produttive che sono attività necessarie. Fermo restando la sanità, la logistica, tutto ciò di alimentare, tutto ciò che è indispensabile in questo momento, tutto ciò che è previsto dalla normativa, bene, il resto bisogna evitarlo. Quindi vuol dire che dobbiamo assolutamente stare in casa, vuol dire che dobbiamo assolutamente uscire se non per estrema necessità. Abbiamo ricordato che anche a fare la spesa è bene se possibile non andare tutti i giorni, anche per evitare le code, è bene andare solo una persona per famiglia, evitiamo la passeggiata fuori di casa. È estremamente negativa. Ricordiamoci che mettiamo a repentaglio non solo la nostra salute ma la salute degli altri. Quindi il dato della mobilità, Pier, che io volevo appunto sottolineare è che ieri non abbiamo avuto una giornata molto positiva. Quindi facciamo appello ancora alla gente ricordando che poi dopo noi prendiamo ogni misura necessaria, invitando anche ai controlli per prevenire, per combattere questo virus. Ricordiamoci ancora una volta, l'unica arma che abbiamo conosciuta, vera, testata, che funziona è l'isolamento sociale. Ecco, è un altro appello che abbiamo già rivolto ieri e anche oggi ribadiamo, riguarda questa questa nostra app che è scaricabile su tutti i telefonini e su tutti i tablet che si chiama Allerta Lom. Perché è importante e qui ci spostiamo verso già il discorso sanitario e di contrasto vero e proprio al virus? Esatto, allora la ricordiamo Allerta Lom è quella app che poi dopo quando si apre, compare, con questo menu. Ricordiamo che in alto a destra abbiamo Cerca Covid dove si può compilare un questionario. Allora, Allerta Lom è una app che per chi non ce l'ha va scaricata, per chi ce l'ha e non l'ha usata ieri va aggiornata e per chi l'ha già scaricata e già utilizzata può ogni giorno aggiornare il questionario. È un questionario in cui viene chiesto il sesso, l'età, viene chiesto se ci sono dei sintomi, ci sono diverse domande a cui è anche semplicissimo rispondere. È molto importante perché questa applicazione consente a noi di avere questi questionari per fare una mappa del rischio di contagio. I nostri virologi, i nostri scienziati, tutta la nostra comunità scientifica ha bisogno di questo dato, che è un dato statistico. Noi ci siamo posti un obiettivo, cominciare a fare un'indagine approfondita a un milione di questionari. Ebbene, mentre vi sto parlando abbiamo superato i 475 mila questionari. Quindi grazie e complimenti perché non serve solo a noi, serve a tutti noi. Vi assicuro che questo è uno dei dati fondamentali. Ricordiamo, Pier, che non sostituisce il sistema sanitario, nel senso che se uno ha sintomi deve sempre chiamare il numero verde, se uno si trova in condizioni gravi deve sempre chiamare il 112. Ma questo è un dato statistico, è un dato assolutamente importante per noi. Ricordiamo anche che ogni app è personale, cioè il questionario deve essere sempre della stessa persona. Sulla stessa app non si possono fare questionari di familiari o quant'altro. Adesso stiamo studiando un sistema anche attraverso il nostro sito internet per far sì che si possano fare anche questionari a persone che magari sono nostri parenti che non hanno il cellulare o che hanno difficoltà a realizzarlo. Però già il dato che potremo raccogliere dalle app degli smartphone è già un dato importante. Dobbiamo assolutamente arrivare a un milione il più presto possibile, quindi confidiamo sul fatto che voi la pubblicizziate. Ricordo che è un'app pubblica realizzata da noi. Vi ricordo ancora che veramente è importante, quindi fate pubblicità che potete per scaricare quest'app e per compilare i questionarii. Ecco Assessore Vicepresidente Sala, abbiamo detto che oggi l'Assessore Gallera, ci arrivano tantissimi messaggi, non è con noi solo ed esclusivamente, perché è impegnato in una riunione molto importante ai piani alti del Palazzo della Regione. Veniamo ai dati di oggi, gli ultimi dati, vediamo un po' come va la situazione, possiamo dire che il trend è positivamente stabile? Sì, nei dati di oggi troviamo in effetti una conferma del trend che va valutato, come abbiamo sempre detto, nell'arco di 4-5 giorni. Allora avevamo detto che il tasso del contagio, cioè la velocità con il quale il contagio si trasmetteva, stava diminuendo, è diminuito e quindi infatti i dati che abbiamo oggi è che su 128.286 tamponi effettuati, come vedete abbiamo 46.065 positivi, che sono 1292 positivi in più rispetto a ieri, ma ricordo che il dato di ieri era 1585 in più, quindi su questo abbiamo un netto miglioramento e speriamo che sia questo il trend che vediamo anche nei prossimi giorni, perché indica una decrescita molto importante. Nella terapia intensiva abbiamo avuto, siamo attualmente a 1.351 terapie intensive, quindi 9 terapie intensive in più, ieri avevamo un più 18, quindi anche questo dato è sicuramente migliorato. Arriviamo al dato sicuramente più brutto da enunciare, che è il dato dei decessi. Siamo a 7.960, in un giorno ci hanno lasciato 367 persone, ieri il dato vedeva un aumento di 394 persone. Sapete che questo è il dato purtroppo che migliorerà solo più a lungo tempo, perché quando uno contrae il virus la maggior parte sapete che non ha sintomi, pochi hanno sintomi, pochi finiscono ricoverati in ospedale e una piccola percentuale poi è chiaro che si aggrava e quant'altro e quindi passa diverso tempo dall'inizio dei sintomi, quindi dall'inizio del contagio fino al decesso, nella peggiore delle ipotesi, e quindi questo è il dato che ahimè calerà più tardi. Però lo stiamo già vedendo calare in trend e se continuerà così vuol dire che la curva si abbassa e quindi vuol dire che stiamo cominciando a uscire dalla più grave emergenza. Attenzione, voglio sottolineare questo, usciamo dalla più grave emergenza, perché con questa epidemia noi poi ci dovremo convivere per diverso tempo. ricoverati, che non sono in terapia intensiva, siamo a 11.762, quindi qua siamo a meno 165, quindi abbiamo avuto più dimessi che ricoverati, ieri eravamo a più 44, quindi questo è un dato estremamente positivo e dimessi 24.992. Andiamo a vedere adesso i dati per provincia, cominciamo dalla provincia di Como, dove abbiamo 1.205 più 48 rispetto a ieri, alla provincia di Varese dove abbiamo 1.002 positivi, più 65 rispetto a ieri, Monza e Brianza 2.663 più 90, Milano, provincia di Milano 10.004 più 482 rispetto a ieri, il dato di Milano città è 4.018 più 203 rispetto a ieri, provincia di Lodi 2.189 più 32 rispetto a ieri, provincia di Pavia 2.285 più 105 rispetto a ieri, poi abbiamo Sondrio con 517 più 33, Lecco con 1.552 più 36, Bergamo con 9.171 più 132, Brescia 8.757 più 159, Mantova 1.782 più 46, Cremona 3.974 più 33. Tutte le Lombardia, quindi come avete visto, 46.065. Abbiamo detto che il trend sta migliorando, valutandolo su più giorni, infatti l'assessore Gallera in questo momento è in riunione proprio per valutare dati sanitari, manovre, monitoraggio, per capire come affrontare poi anche la seconda parte della fase che ci vedrà appunto vivere anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Non va abbassata la guardia, noi sappiamo che molte persone, e basta vedere chi ha, quanti hanno compilato il questionario, hanno preso coscienza della situazione e si stanno comportando nel modo più corretto, ognuno sta dando una mano, anche chi sta semplicemente rimanendo in casa, questo è importante dirlo. Ecco, il ringraziamento va chiaramente ancora a tutti gli operatori, agli operatori sanitari, il ringraziamento va a tutti quelli che svolgono un lavoro essenziale, da quello che pare più umile a quello che è più importante. A loro il ringraziamento, e il ringraziamento lo rifaccio ancora a chi ha capito che bisogna assolutamente il più possibile rimanere a casa e anche chi stimola la popolazione a rimanere in casa. Ecco, c'è ancora qualche comportamento superficiale, lo ripetiamo ancora, questo comportamento superficiale rischia di mettere a repentaglio la salute degli altri, questo noi continueremo a sottolinearlo perché per uscire da questa emergenza il sistema migliore che abbiamo è quello che tutti prendano coscienza di come bisogna comportarsi. Ecco, Vice Presidente, prima di chiudere ci sono moltissime domande alle quali risponderemo anche attraverso i nostri colleghi di Lombardia Notizie, una su tutte ripetitiva, in molti chiedono e invocano più esercito, più divise per le strade, ricordiamo che oggi o meglio ieri nella giunta Regione Lombardia ha stanziato su iniziativa dell'assessore decorato 464 mila euro per rafforzare l'azione delle polizie locali, anche in questa direzione Lombardia, Regione Lombardia è presente? Assolutamente sì, abbiamo utilizzato quello che è tra virgolette l'esercito della Regione che poi è l'esercito dei comuni, sono gli agenti di polizia locale, ringraziamo anche loro per il lavoro che stanno facendo e i controlli che stanno facendo, quindi veniamo incontro a chi è già per la strada, chi conosce bene il territorio perché gli agenti di polizia locale insieme a tutte le forze di polizia conoscono bene il territorio, li ringraziamo per il lavoro che stanno svolgendo, li ringraziamo per i controlli che stanno facendo e quindi era giusto anche che Regione Lombardia venisse incontro anche a questa esigenza importante. Grazie dunque, grazie anche a chi dietro le quinte, Giuseppe Meduri, Paolo Zoncada, Davide Bertani della redazione di Lombardia Notizia ci danno una mano concreta per fare queste dirette, l'ultimo saluto lo lascio al Vice Presidente Sala. Abbiamo salutato tutti gli operatori, abbiamo salutato tutti i cittadini coscienziosi, facciamo un saluto oggi particolare ai ricercatori e gli scienziati, siamo veramente in attesa che loro possano produrre qualcosa per la cura, che possano produrre qualcosa per il vaccino, sappiamo che il vaccino sarà molto più lungo, ci vorrà molto tempo per averlo, noi incrociamo le dita, diamo loro il massimo sostegno, abbiamo fatto anche un bando importante per finanziare già chi non era sufficientemente finanziato a questa ricerca, facciamo un ringraziamento a tutto il mondo della ricerca perché in questo momento lo guardiamo come mondo che ci può dare una speranza. Grazie a tutta la comunità scientifica della Lombardia e alla comunità scientifica che di fatto sta lavorando con tutto il mondo per combattere questo virus. Grazie e buona serata a tutti.